Le misure di sicurezza stradale hanno come obiettivo la riduzione del numero e delle conseguenze degli incidenti veicolari. Ora più che mai è necessario ricordare ai genitori come devono essere trasportati i figli a bordo di autoveicoli, ciclomotori o biciclette. E infatti bisogna consigliare ai genitori in tema di sicurezza stradale come portare i figli per esempio in auto, piuttosto che in bici, piuttosto che sul motociclo dal momento che i rischi sono tanti. Sapete bene che qui a Roma soprattutto non è proprio una città tranquilla in tema di sicurezza stradale. Ci consiglierà meglio Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania. Buongiorno e benvenuto a Genitori si Diventa. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Quali consigli possiamo dare ai nostri genitori in tema di trasporto? Quindi nel trasportare i loro figli in auto piuttosto che in moto o in bici, quali accortezze devono tenere a mente? Allora guardi, tendenzialmente parlando, diciamo ci sono diversi modi, modalità a secondo del tipo di mezzo di locomozione che viene utilizzato. Allora per quanto riguarda le auto dipende dall'età e dal peso del bambino. Ci sono i sistemi di ritenuta che appunto sono i tipici seggiolini che variano nelle loro caratteristiche, devono essere innanzitutto omologati e variano nelle loro caratteristiche a seconda del peso e dell'altezza del bambino. Vanno fissati al sedile posteriore del veicolo attraverso appunto il sistema delle cinture di sicurezza e a propria volta il minore va sistemato all'interno del seggiolino e va legato con le cinture previste dal seggiolino stesso. Man mano che si va avanti con l'età e anche con l'altezza del bambino sono obbligatori dei rialzi, dei cuscini con braccioli o senza a seconda dell'età del bambino e i bambini un po' più grandi appunto vanno posizionati su questi dispositivi che anche a loro volta vanno sistemati sui sedili posteriori del veicolo. Infine raggiunta l'età prevista dalla norma e superato il metro e cinquanta di altezza è necessario utilizzare come obbligatoriamente previsto dal codice, questo vale per tutti gli adulti, le cinture di sicurezza. Mentre abitualmente che cosa accade segretario? Cioè in Italia la situazione a che punto è? I genitori sono disciplinati o no? Guardi, diciamo che ci sono due elementi da considerare. Secondo me c'è un problema di informazione nel senso che i genitori non si informano su come vanno trasportati i minori in auto quindi non sanno né le regole né le sanzioni che ne derivano né la gravità delle conseguenze che possono causare degli incidenti stradali in cui i minori non sono trasportati nella maniera corretta. E quindi diciamo che la scarsa disciplina che purtroppo c'è è dovuta soprattutto alla grande disinformazione, alla grande ignoranza su questa tematica. Certo, quindi non c'è adeguata informazione in questo senso, bisogna sostenere i genitori fornendo loro gli strumenti giusti che potranno permettergli magari in futuro di dimostrare maggiore attenzione. Ma rispetto al nord piuttosto che al sud Italia le cose cambiano o la disinformazione in tema di sicurezza stradale è uguale in tutta Italia? La disinformazione è generalizzata, ci può essere una tendenza a un maggiore rispetto delle regole in alcune aree del paese per cultura e tradizione più che altro e sicuramente nel centro-sud c'è una tendenza a rispettare un po' meno le regole della strada però diciamo che dal punto di vista del caso specifico noi abbiamo verificato una disinformazione, una scarsa attenzione alle tematiche del trasporto dei minori su tutto il territorio nazionale. Certo, segretario Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania e l'ospite di questa mattina a proposito di sicurezza stradale, stavo riflettendo, forse i genitori non si preoccupano molto di prestare attenzione a come trasportano i figli perché pensano che tanto vanno piano, non succede nulla in realtà poi le cose non vanno proprio così. Ad esempio Roma è una città dove è preferibile girare in moto tante volte portano i figli in moto e soltanto che poi i rischi sono quelli che conosciamo insomma non è propriamente una città sicura sotto questo punto di vista, bisogna che appunto loro sappiano a che cosa vanno incontro e bisogna che prestino maggiore attenzione nel trasporto. Guardi, sul tema delle moto sinceramente questo è un mio punto di vista personale che quindi non ha nulla a che vedere con la normativa in vigore per quanto mi riguarda io non trasporterei mai un minore su un mezzo o due ruote in una città come Roma, ma ripeto questo è il mio punto di vista personale chi sceglie di farlo dovrebbe cercare innanzitutto di riconoscere la legge che prevede che non è trasportabile nessun minore al di sotto dei 5 anni in nessun modo, su uno scooter o su una moto. In secondo luogo dovrebbe proprio evitare in maniera assoluta di trasportarlo nella parte anteriore del mezzo e poi magari anche se la legge non lo prevede e quindi non c'è un obbligo in questo senso dotarsi di dispositivi che in qualche modo danno una maggiore stabilità, un maggiore equilibrio al minore sulla moto e quindi lo rendono un po' più sicuro per evitare che appunto se non è sistemato o legato a qualche dispositivo non cada perché magari è talmente piccolo che non ha ancora un senso dell'equilibrio che non riesce a seguire i movimenti del mezzo in caso di curva o via dicendo. Questi dispositivi danno una maggiore sicurezza, ripeto la legge non ne prevede l'obbligo però insomma noi li suggeriamo così come suggeriamo un abbigliamento per i minori per quanto riguarda la moto e gli scooter che li protegga da eventuali urti o da eventuali cadute e che quindi abbia come dire una sorta di, mi passi il termine, un abbigliamento un po' corazzato che eviti che appunto le conseguenze di un urto o di una caduta possano essere molto molto gravi. Certo, in modo da garantire in qualche modo maggiore sicurezza. Rispetto alle sue dichiarazioni Guidoni, lei poco fa ha detto il sistema legislativo non obbliga eccetera eccetera quindi delle leggi diverse possono aiutare a prevenire fenomeni incresciosi in questo senso? Ma ripeto, sicuramente c'è un rischio e quindi il rischio va tutelato sia con una legge che obbligi l'utilizzo di certi strumenti che ne riducano gli effetti di questo rischio sia attraverso un'opera di educazione nei confronti dei genitori perché ripeto anche su questo nelle città, in particolare al sud direi il trasporto sugli scooter dei minori è fatto veramente in maniera assolutamente priva di qualsiasi logica anche di protezione nei confronti del minore quindi credo che anche su questo bisognerà lavorare molto e bisogna lavorare molto anche a livello legislativo. A risentirci in futuro, grazie ad Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania. Buon lavoro. Grazie a voi e un saluto agli ascoltatori. Grazie a voi e un saluto agli ascoltatori.